Mariangela Galatea Vaglio, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta davvero qui nel nostro piccolo podcast Il Posto delle Parole per farci conoscere più da vicino un personaggio straordinario della mitologia, ma proprio perché straordinario quanto è stato e quanto è frainteso questo personaggio. Lei dedica il libro alla figura di Afrodite, la verità della Dea. Il libro è pubblicato da Giunti, leggo nel risvolto di copertina che Mariangela Galatea Vaglio vive e lavora a Venezia, docente, giornalista, autrice di racconti e saggi storici con la pagina Facebook Pillole di Storia seguita da oltre 85.000 persone. Qual è l'ultima pillola che ha pubblicato Mariangela? Ah, dunque c'è una piccola recensione dell'ultimo ritratto di Carlo d'Inghilterra, quello che ha fatto così tanto discutere, che secondo me è bellissimo e invece è un ritratto molto intelligente, secondo me. In un minuto perché è bellissimo? Beh, perché in genere i ritratti ufficiali sono molto ligi alla tradizione, quindi anche molto freddi risultano e un po' accademici. Invece questo di Yao mi è piaciuto moltissimo perché è un ritratto di Rolpente che ha degli ecchi di Francis Bacon e che tutto sommato dimostra che Carlo d'Inghilterra ha molto buon gusto per l'arte, questo lo sapevamo, ma anche un certo coraggio per scegliere una immagine così anticonvenzionale. Eh sì, anche perché noi siamo abituati alla parola ritratto a qualcosa esattamente di convenzionale, qui invece forse l'unica cosa convenzionale è proprio il volto, tutto il resto non lo è. Sì, è molto arte moderna e devo dire che è anche un bel rischio dare così via ad un ritratto così inaspettato per i sudditi, quindi secondo me è un punto a favore di Carlo, averlo accettato e averlo commissionato. Vuol dire un'apertura mentale che non tutti i sovrani hanno avuto nemmeno in passato. Ma se ne fosse possibile, Mariangela Galatea Vaglio, di commissionare un ritratto a un pittore per ritrarre Afrodite, quale potrebbe essere secondo lei? Beh, oddio, contemporaneo? Sarei curioso di vedere John Taillau cosa ne pensa perché è uno dei miei artisti preferiti, devo dire. In passato direi che non ne avrei bisogno perché da Tiziano a Raffaello a chiunque ha prodotto dei ritratti della dea Botticelli, quindi lì c'è veramente già da poter scegliere il meglio del meglio. Eh sì, da poter scegliere veramente il meglio del meglio per andare a conoscere anche dal punto di vista dell'arte la figura di Afrodite. La domanda è una dea di cui tutti pensano di sapere già tutto perché la mitologia che ci hanno insegnato a scuola ci ha detto che è la dea dell'amore e anche in sostanza è stata raccontata un po' come la Barbie dell'Olimpo, cioè una dea bellissima, famosa per i suoi amorazzi e però insomma una figura diciamo così abbastanza non secondaria ma certamente non che spicca sulle altre divinità. Invece, indagando un po' meglio su quelle che erano anche le origini di questa divinità, Afrodite è anche in gran parte della tradizione greca la forza che regge insieme l'intero universo perché è l'amore ed è la coesione, quindi dagli strati più infimi della materia fino alla luce in realtà tutto quello che noi conosciamo è un dono di Afrodite. Eh sì, è un dono di Afrodite anche all'amore che viviamo oggi, un dono di Afrodite, cosa ne pensa? A lei la divinità dell'amore quindi è per l'amore a tutto tondo, diciamo così, non ha confini e soprattutto non ha regole. Però quando pensiamo all'amore, Mariangela, pensiamo ad Eros e come si inserisce l'amore nello sguardo, nella vita mitologica di Afrodite? Questo è anche una delle tante cose che scopriamo in questo libro perché questo libro tra l'altro si apre con queste parole tutto quello che credete di sapere su di me è falso, ogni immagine, ogni idea, ogni parola e quindi dobbiamo voltare pagina e incominciare a scoprire questo nuovo personaggio, questa nuova donna. Eh sì, perché è una dea di un carattere indubbiamente anche molto deciso e ha una vicenda molto travagliata. In realtà per gli antichi Eros è la passione, quindi è qualcosa di cui loro sostanzialmente avevano paura, i greci, perché era qualcosa che andava contro all'armonia a cui loro tendevano. Afrodite invece è proprio la dea dell'amore in tutti i sensi, quindi qualcosa che è anche al di là, oltre la passione, è anche la tenerezza, è anche l'affetto materno, quindi ha un campo di sfumature molto più alto. I tre volti dell'amore, no? Si ricorda bene al suo tempo, al tempo della Grecia. Sì, poi ci sono appunto le famose Afrodite Urania, Afrodite Pandemia, perché la pandemia, diciamo l'Afrodite, è sessualizzata, mentre l'Urani è appunto la figlia di Urano, perché Afrodite è più antica degli dei come Zeus, come Giunone. È più antica di tutti perché è di una generazione precedente e nasce direttamente da Urano, che era il primo dio del cielo. Andiamo a fare un po' di ordine, seppure nella brevità di questa conversazione non abbiamo certamente la pretesa di svelare tutto, anche perché qui nel nostro podcast il posto delle parole non è che vogliamo svelare più di tanto, stiamo sulla soglia della storia, e qui già stare sulla soglia della storia di Afrodite è già saperne molto. Quante Afrodite ci sono state? Perché un certo signore che si chiamava Socrate, non mi ricordo più, ahimè, asseriva che c'erano due Afrodite. In realtà ce ne sono state diverse. Allora, un conto è quello che dice la tradizione greca, dove appunto c'erano Afrodite Pandemia, Afrodite Urania, che erano queste due Afrodite ricordate appunto da Platone, il quale però dice anche che Afrodite era la più vecchia delle moire, quindi delle divinità che sovrintendevano allo svolgersi del fato. Anche perché le moire sono una delle rappresentazioni mitologiche più importanti, interessanti, soprattutto perché sono femminili. Ce le vuole raccontare? In realtà nel mio libro poi compaiono, perché ad un certo punto Afrodite va a chiedere anche spiegazioni di quello che è un destino che lei non riesce bene a capire, alle moire. E le moire sono figlie di Ananche, quindi di questa divinità che sovrintende la necessità universale che sovrintende a tutte le vicende umane e anche divine. Quindi in qualche modo Afrodite si colloca in questa famiglia di dèe che sono sopra addirittura degli stessi Olimpi. E proprio per questo Afrodite con gli Olimpi non è che sempre ci vada d'accordissimo, perché, diciamo così, Zeus e gli altri dèi della Grecia tendono a considerarla appunto una figura secondaria perché è una donna e invece lei si ribella a questa visione e vuole capire qual è il suo ruolo nel mondo. Il suo ruolo nel mondo è il ruolo che si è ritagliato e che poi nel corso del tempo, dei millenni, abbiamo ritagliato anche noi un suo mondo particolare, certamente pieno di, ricco di invenzioni. Ma veniamo al rapporto d'amore di Afrodite, no? La sua vita è una vita molto particolare, tra l'altro questo libro parla in prima persona, quindi è Afrodite che parla a noi, no? Si siede vicino a noi quasi come quella volta che la troviamo vicino ad Anchise, no? Che però Anchise era abbastanza addormentato e lei fa delle considerazioni su Anchise che non era tanto un amante ma un compagno. Anche qui nella definizione, seppur romanzata di questo libro, troviamo una verità assoluta di Afrodite. Beh, Afrodite innanzitutto è una dea appunto che soffre un po' delle convenzioni, quindi se ne frega molto. Cioè non capisce alle volte la necessità di dover incasellare tutto, quindi i suoi rapporti sono anche molto liberi per quello. Poi lei ha una grande passione per gli esseri umani, al contrario delle altre dee che sostanzialmente si sposano solo con altri dee i loro pari. Lei non ha problemi a prendersi degli amanti e dei compagni che sono esseri umani, anzi li trova molto divertenti. Cioè lei ama vivere tra gli uomini, ama seguire le loro vicende, dice che con gli uomini a lei non si annoia mai. Tant'è vero che arriva a dire, a proposito sempre di Anchise, se ricordo bene, che ci eravamo accettati per quello che in fondo noi eravamo e ci consideravamo pari. Ora, detto nel 2024, questa cosa ci fa persino sorridere, la diamo per scontata fino a un certo punto. Però stiamo parlando dell'antica Grecia. E no, anche perché lei che è una donna che considera pari un uomo, quindi diciamo così, è l'esatto contrario di quello che in genere si dice, cioè che la donna fa fatica a essere considerata pari all'uomo. Qui invece Afrodite che fa un'enorme, diciamo così, concessione, perché Anchise è un uomo e gli dice ma io ti considero un compagno mio pari. Quindi è molto aperta di mentalità per essere una dea. Eh sì, molto aperta. Fino ad arrivare al matrimonio. Noi abbiamo aperto la nostra conversazione parlando del re d'Inghilterra. E qui è un matrimonio, potremmo dire, ancor più che reale, vero? È un matrimonio divino che non è che però vada benissimo perché in qualche modo Afrodite, diciamo così, non c'è tagliata per i legami, diciamo così, stabili e duraturi. È il matrimonio con Efesto che è il dio nerd, diciamo così, perché è il fabbro divino, inventore, eccetera. E il problema è che poi il matrimonio tra loro va male perché in qualche modo Efesto, un po' come capita spesso agli uomini, quando pensano che una cosa sia scontata, la archiviano come se fosse una pratica chiusa. È solo che, diciamo così, trattare la dea dell'amore come una pratica chiusa e come una moglie trofeo è sicuramente poco intelligente e porta ad un disastro, certo. Parliamo di un altro disastro, la guerra di Troia, perché anche qui Afrodite, e molti si stupiranno, anche qui Afrodite ha qualche cosa, ha qualche cosa da dire. Anzitutto non le stava per niente simpatico Gamennone, ecco diciamoci subito questo. Diciamo che a me non è difficile che sia oggettivamente simpatico a qualcuno, credo anche ad Omero, gli stessi è molto antipatico perché è un personaggio decisamente poco, poco affascinante. È un uomo che per il potere sacrifica qualsiasi cosa e quindi insomma non è proprio che attiri la simpatia. No, in realtà Afrodite innanzitutto si trova impelagata nella guerra di Troia, quasi senza rendersene conto. È lei che in qualche modo accende la scintilla perché fa scoppiare la passione tra Paride ed Elena. E quindi poi Paride rapisce Elena e da lì comincia la guerra. Però appunto nel romanzo lei indaga anche sul perché il fatto l'ha messa in questa condizione. E si rende conto che, come dicevano gli antichi, la guerra di Troia era uno di quegli snodi fondamentali della storia. Si sapeva che doveva succedere, si sapeva che Troia doveva cadere. Però Afrodite vuole capire perché, cioè vuole capire qual è il piano del destino che coinvolge lei in prima persona e soprattutto suo figlio che è un troiano. Quindi le due cose, diciamo così, la spingono a fare una vera e propria indagine per capire che cosa si cela dietro questo problema della guerra di Troia. Maria Angela, ci puoi raccontare qual è la consonanza di quel mondo di Afrodite con il respiro del tempo di oggi? Beh, io credo che Afrodite sia una divinità molto moderna. Nel senso che forse noi donne di oggi dovremmo prenderla a modello e anche imparare molto da lei. Perché è una donna molto testarda, che non accetta appunto di essere vincolata dalle condizioni sociali. È una donna anche realizzata, ma non perché è una dea, ma perché è anche una mamma molto presente. Però ecco, il fatto di diventare una mamma per esempio non la limita nell'essere tutto il resto, non è che diventa solo quello. È una donna molto tosta, che non accetta di essere appunto messa all'angolo, non accetta di essere sminuita solo perché fa parte del genere femminile. È una donna che non si arrende mai, perché è tessardissima, quando vuole raggiungere un obiettivo lo raggiunge. Intelligente, curiosissima, curiosa ma in generale della vita. Lei ama proprio studiare la vita degli esseri umani al di là di tutto. È molto aperta mentalmente. Quindi secondo me è una dea che veramente oggi potrebbe essere un buon modello, sia per tutti credo. Sì, poi ho sempre apprezzato di Afrodite il senso della leggerezza, non la leggerezza come possiamo pensarla, ma il senso proprio dell'essere leggeri e profondi nello stesso tempo. E questa è una delle tante cose che nel corso del tempo, abbiamo già toccato in avverture di conversazione questo tema, ma vorrei ritornare. Il tema del fraintendimento. Sicuramente questa è stata una delle donne, una delle idee più fraintese del mondo. Perché è talmente piena di simboli, è talmente plurale che probabilmente questa sua forza non potevamo e non possiamo nemmeno comprenderla pieno. Afrodite è più antica degli altri dei dell'Olimpo. Afrodite è qualcuno che viene forse, potremmo dire, prima di molti altri. Non dico prima di tutti, ma Afrodite è una presenza unica. Ed è una delle forze fondamentali dell'universo. Nella introduzione in cui si presenta ai lettori e si spiega, in fondo usa per definirsi gli stessi concetti che per esempio usava Einstein per indicare l'energia e la creazione della materia. Cioè lei è la luce che crea tutte le cose e quindi tutte le cose nascono dalla sua energia rallentata, che in fondo è quello che ci dice anche la teoria della relatività. Quindi in qualche modo è veramente una forza primordiale e proprio per questo è abbastanza assurdo pensare di riuscire a costringerla con dei limiti e dei paletti. Afrodite te la prendi così com'è. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori del Posto delle Parole che il libro che stiamo raccontando non è una ricostruzione del tempo e della figura di Afrodite, ma che cosa ha fatto Mariangela Garatea Vaglio? Ha completamente riscritto la sua storia. E in questa riscrittura non c'è un'invenzione, ma c'è una profonda connessione con quel tempo. E quindi posso pensare che il lavoro di ricerca e di scrittura del libro siano stati molto lunghi. Allora, a me è piaciuto moltissimo fare questo lavoro, prima di tutto perché sono sempre stata un'appassionata di mitologia, ma proprio perché sono potuta andarmi a rileggere un sacco di fonti, anche non solo greche e latine, ma anche per esempio mesopotamiche, quindi delle religioni orientali, perché tra l'altro Afrodite è una divinità che probabilmente arriva in Grecia dall'Oriente, è Astarte, Ishtar o Inanna, la dea protettrice di Uruk, che era peraltro non solo la divinità dell'amore, ma anche la divinità della guerra e la protettrice dei grandi imperi. Quindi la figura di Afrodite è una figura estremamente complessa e proprio a lavorare su questo libro mi ha permesso anche di studiare, di approfondire tutti questi aspetti che alle volte quando viene poi spiegata nella mitologia a scuola spariscono o non vengono nemmeno sottolineati. E perché spariscono? Perché gli insegnanti non conoscono oppure preferiscono passare oltre? Ma anche banalmente per un motivo di tempo, nel senso che ovviamente richiederebbero una possibilità di dedicare molto più tempo a questo tipo di aspetti. Però, ripeto, anche perché poi nella cultura occidentale questi aspetti sono stati un po' passati in secondo piano, ripeto. A partire dall'età ellenistica, la figura di Afrodite è stata molto simile a quella di una vera e propria Barbie, cioè era la dea molto bella, ritratta in atteggiamenti, peraltro, che gli altri dei non hanno, molto quotidiani, al bagno che si fa bella, che è distesa sopra il triclinio e così via. E quindi diventava e veniva presentata come una dea un po' più, tra virgolette, superficiali. Ma quando si vanno a vedere invece le testimonianze appunto dell'Afrodite greca arcaica, che peraltro anche in Grecia, per esempio a Sparta, è una divinità della guerra, perché è una divinità armata. E in altre parti della Grecia era considerata una delle idee più antiche e, tra l'altro, che si occupava di tantissimi aspetti che noi oggi non leghiamo ad Afrodite, la protezione dei naufraghi in mare, il salvataggio dalle tempeste, la capacità di risolvere i problemi, addirittura legata all'invenzione della scrittura e degli archivi. Quindi era una divinità multiforme e molto più potente di quanto poi non arrivi nella tradizione più recente. Di gran lunga la più complessa di tutte le divinità afrodite. Ma proprio perché complessa, perché plurale, questa sua pluralità la fa diventare singolare, complessa già da quando il suo nome era Ishtar, inana, no? E siamo nella Mesopotamia e andando avanti nel tempo, nelle sue trasformazioni non ha perso, non ha perso sicuramente quella sua complessità. Ed è importante entrare nella complessità di questa donna, perché in filigrana vediamo anche tante attualità, tante cose che rispondono al giorno di oggi. Mariangela Galatea Valio, autrice di Afrodite, La verità della Dea, il libro pubblicato da Giunti. Ma prima di salutarci, Mariangela, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, dunque, io in questi giorni in realtà stavo leggendo Le isole del rifugio che è Venezia prima di Venezia, che è un saggio storico. Io sono veneziana, quindi, che parla proprio della nascita della Repubblica di Venezia, o meglio, della Venezia insulare del VII, VIII, IX secolo. E io che sono un'appassionata appunto del Tardo Antico, me lo sto leggendo e lo amo moltissimo. Che cos'era Venezia prima di Venezia? È una bella domanda. Era un insieme di comunità che vivevano su queste isole, probabilmente nate dal naufragio del resto dell'impero romano. Erano delle comunità molto vivaci, ma anche dove la vita era particolarmente dura, perché evidentemente vivere nelle isole della Laguna nel VI, VII, VIII secolo non era un ballare di carnevale, come si dice in Veneto, ma erano anche per un posto molto affascinante, secondo me. Ancora oggi, quando si va in visita alle isole più lontane della Laguna, ci si rende conto che è un posto molto particolare e sospeso, perché non è simile a nient'altro. Non è terra, non è mare, non è terra ferma. Sono delle isole che penso addirittura spariscono con l'alta manea e riemergono, perché sono appena appena filo d'acqua. Sembra di parlare di Afrodite. Afrodite, ad Afrodite sarebbe piaciuto abitare a Venezia. Penso proprio di sì e credo che ci si sarebbe trovata molto bene, anche perché è una terra che difficilmente ha le regole che valgono sulla terra ferma e quindi lei ci si sarebbe trovata benissimo. Grazie davvero, Mariangela Galatea Vaglio e buona giornata. Grazie a voi tutti e buona giornata anche a voi.